E ora la cronaca, purtroppo con una triste notizia. Un bambino di soli due anni è morto ieri sera a Città Sant'Angelo, annegando nella pincina della villetta di famiglia. Secondo una prima ricostruzione della tragedia, ieri sera intorno alle 20 i genitori non avevano visto il piccolo in casa da pochi minuti. Dopo averlo chiamato in vano, hanno perlustrato l'esterno scoprendolo caduto in acqua. Hanno tentato subito di rianimarlo sul posto. Sono successivamente accorsi anche gli uomini del 118, i carabinieri di Montesilvano, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Avviati gli accertamenti di rito, ma per gli investigatori si è trattato certamente di una tragica fatalità.